Lanciano un allarme e lo fanno davanti al palazzo del comune di Napoli. Sono i vigili del fuoco che quotidianamente rischiano la vita per salvare quella dei cittadini, ma oggi hanno deciso di incrociare le braccia per far sentire la propria voce. In Italia, come testimoniano, c'è un vigile del fuoco per ogni 15.000 abitanti, invece di uno ogni 1.500. I tagli che hanno colpito anche il corpo dei pompieri hanno letteralmente messo in ginocchio la categoria, come spiega Costantino Saporito del coordinamento nazionale USB Vigili del Fuoco. Ascoltiamolo. Il problema più grosso è cercare di comporre una squadra, cercare di essere produttivi, come dice il governo, perché è un paradosso. A noi il nome della produttività ci hanno tagliato, ci hanno licenziato. Io sono un permanente, ma dietro di me ci sono tantissimi precari. 37.800 precari sono stati licenziati.